Non c'è pace ad Eboli per il sindaco Mario Conte. La sua poltrona è sempre più traballante e la necessità di accontantare i membri della maggioranza o presunta tale si fa sempre più forte. Eboli domani e Eboli 3.0, i pilastri su cui l'amministrazione Conte si andrebbe a appoggiare, vogliono qualcosa, altrimenti l'alternativa è staccare la spina. Enzo Consalvo dovrebbe perdere la carica di vice sindaco in quella che dovrebbe essere dunque un rimpasto di giunta, un incarico di estrema fiducia del primo cittadino e conquistato con fatica, ma manterrebbe in maniera quasi intatta le altre deleghe. Al suo posto è pronto e scalpitante da tempo Gian Maria Sgritta, papabile vice sindaco già da tempo in memore. Gli altri nomi su cui si sta lavorando e che trovano spazio sul tavolo delle trattative sono quelli di Giulia Izzo, di Cati e Cennamo, di Lucilla Polito in entrata, mentre in uscita ci sono Massimiliano Curcio, Alessia Palma e Damiana Masiello. Il mercato dunque è finito? Assolutamente no. Le trattative sono in corso, nonostante le scorse ore sembravano essere decisive. Il breve futuro vedrà altri incontri, riunioni, telefonate, confronti vertici, proposte e richieste. Una situazione che fa tenere agli ebolitani il fiato sospeso e che appassiona ancora di più di un film di qualsivoglia genere. A proposito di arte cinematografica, un colpo di scena potrebbe arrivare in qualunque momento, oppure lo stallo alla messicana, degno dei duelli western tra Clint Eastwood e Livan Cliff di Sergio Leone, è destinato a continuare per chissà quanto tempo ancora.